Come Arpai abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Bike to Work, una bella rappresentazione della concretezza, della semplicità delle misure che ci possono portare alla mercolità sostenibile. Convolgeremo tutto il personale di Arpai, una comunità di 1280 persone, riconoscendo 15 centesimi al chilometro per il tragitto casa-lavoro. Abbiamo un obiettivo comune, vogliamo passare dal 15% attuale delle persone che usano la bicicletta per il percorso casa-lavoro, arrivare entro il 2021 al 20%. Abbiamo anche un'altra attività interessante, in parallelo sempre su Bike to Work, su Modena, dove col comune di Modena e con un contributo del Ministero dell'Ambiente faremo anche una verifica degli effetti dal punto di vista sanitario e del benessere delle persone che utilizzeranno questo mezzo sostenibile rappresentato dalla bicicletta.